alzo la camera alzo la camera alzo la camera mi provo una musica signora pronto? si? mi sente? si? lei è la signora Dolores? si parla? si signora mi hanno dato il numero so che lei fa ripetizioni a ragazzi ciucci alla scuola a ragazzi ciucci? eh siccome mio figlio va molto male ma il voto più alto è uno due massimo e cos'è scherzo di grande male? no signora di figure alle tre e mezzo qua ci mettiamo a fare scherzi chi parla scusa? allora signora io sono il marito di di Giovanna non so se mi conosce mi hanno dato il suo numero perché so che lei fa ripetizioni alla scuola di chi Giovanna? il marito di chi Giovanna? allora sono Riccardo Riccardo e non so signora come spiegarlo comunque mi hanno detto che lei fa ripetizioni a scuola sto sbagliando? lei dipende da che cosa intende per ripetizione e lei non fa dopo scuola i ragazzi scusi eh? si vabbè e niente le spiego il ragazzo nostro ha dieci anni va male a scuola va male a scuola soprattutto in matematica che classe fa? eh classe la quinta signora a scuola va? ah è qua via Roma signora non so dipende perché se alla quinta va male il matematica potete sicure che non recupera più eh? addirittura eh signora io non lo so ma signora questo mi perde l'anno a me che mi può aiutare perché questo va malissimo proprio eh? se no siamo costretti a ricorrere come ai vecchi i vecchi tempi proprio a stile vecchio antico li buttiamo l'olio bollente sulla spalla vediamo se va meglio a scuola non si risolte niente vabbè questo scherzo eh? no signora ma ti figuri se mi metto a scherzare signora? vabbè chi ti ha dato il numero? allora la signora che mi ha dato il numero è la cosiddetta la signora Giovanna la signora Giovanna perché questa signora Giovanna? eh signora che ne sommo come spiegarle io? è una alta magra anzi no magra non tanto comunque c'è anche un po' di baffo diciamo è facile che si ricorda perché c'è il baffo e con questo baffo diciamo sembra quello dei Flanders dei Simpson non lo so se lei lo conosce ma per favore no signora per favore le lo dico a lei perché lei me l'ha dato per favore le lo chiedo pure io insomma mi faccia sto favore me lo faccio venire a scuola perché sennò non lo so che fare eh io lo passo si si basta lo so eh un attimo solo eh si si Giuliano vieni un attimo signora signora non non che non 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 l'altro non 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 Grazie a tutti.